Per lo speciale elettorale Chieti 2020 siamo qui dal comitato elettorale di Fabrizio Di Stefano. Buongiorno. Buongiorno a voi. Lei è candidato per una coalizione di liste civiche più il centro-destra e ovviamente è un politico di lungo corso. Ci parli brevemente di quello che vuole realizzare per questa città e perché gli elettori dovrebbero votarla e dare fiducia alla vostra coalizione? Io credo che questa è una città meravigliosa, va valorizzata e penso che si possa valorizzare attraverso due canali di implementazione. Da una parte c'è il binomio Ateneo o Ospedale che sono due delle più grandi aziende presenti in città ma che non esprimono in tutto il loro potenziale di capacità anche economiche oltre che sociali. Dall'altra parte c'è la meravigliosa storia di Chieti, racchiusa nei suoi 3.200 anni di vestigia di patrimonio archeologico, patrimonio culturale, patrimonio architettonico ma anche di storia. Se tante città con meno storia e meno ricchezza culturale di Chieti vivono di turismo culturale, noi non possiamo che puntare sul turismo culturale per far decollare anche Chieti. su questi due asset e sui finanziamenti europei che oggi sono il progetto principale su cui ci si può basare perché sono i finanziamenti più immediati, io ho puntato sul mio progetto politico. Tanto è vero che avevo già presentato dei progetti e il primo di questi è già arrivato al finanziamento. Sono 6 milioni di euro per costruire una cittadella della cultura intorno al marucino per fare formazione musicale, con un'immunicazione recitativa, alta formazione, un noi per tutti e il coinvolto autobie in questo progetto. Su questo costruiremo la Chieti 2030. Perché votare, dare fiducia a un appello agli elettori? Per tutto questo perché io penso che Chieti sia, visto le sue origini, sia splendidissima come dicevano i latini, la splendidissima Chieti deve diventarlo in tutti gli effetti e io sono convinto che noi riusciremo a fare di Chieti la città più bella e più invidiata da qui. Ringraziamo Fabrizio Di Stefano, al prossimo speciale elettorale, grazie. Grazie a voi.